Dire grazie, o meglio avere il cuore pieno di gratitudine, è una via, è un metodo, chiamatelo come volete, per essere felici. E ieri, per chi ci ha seguito, quella preghiera di Jean-Pierre Dubois-Diumet, questo laico, sposato, francese, cristiano impegnato, ci ha fatto capire come il grazie nasce soprattutto per le piccole cose. Noi molte volte pensiamo che dobbiamo essere grati dinanzi alle grandi cose, ma la vera gratitudine è capace di riconoscere e di gioire per le piccole cose, per i piccoli gesti. Il Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi era un cantico che è nato fuori, è venuto fuori da un cuore grato soprattutto per le piccole cose. Chi di voi, per esempio, ogni giorno è capace di dire grazie a Dio per il nuovo giorno, grazie per il sole o grazie per la pioggia, perché anche la pioggia serve all'uomo, grazie per il freddo, grazie per il caldo, grazie per il gelo? Chi di noi è capace di dire ai propri genitori grazie perché questa mattina mi hai fatto trovare la colazione, perché ieri sera mi hai dato una carezza, perché mi hai dato un bacio, grazie perché mi hai dato la vita, questo è un grande dono, ma ecco, ai grandi doni poi devono seguire i ringraziamenti, grazie per le piccole cose, per i piccoli gesti e la famiglia è il luogo dove veramente è possibile allenarsi alla gratitudine, perché vedete la felicità, i fondamenti della felicità, la radice della felicità è nella famiglia, tutto nasce dalla famiglia e i genitori dovrebbero veramente impegnarsi a educare se stessi, i loro figli alla gratitudine, dicendosi anzitutto grazie tra genitori, tra marito e moglie, tra padri e madri, grazie, perché un grazie detto con gioia, detto con spontaneità, perché nasce dal cuore, educa i figli, li fa sentire forti e li fa sentire parte di un creato, li fa sentire parte di un creato in cui tutto è grazie, come diceva Bernanos, in cui a me non mi spetta nulla, ma tutto mi è dato per amore, ogni giorno. tornare alla gratitudine, tornare a inondare il mondo della gratitudine è la via della felicità, è la via che potrebbe anche risolvere tanti problemi, tanti problemi nel nostro mondo, perché oggi è più facile ascoltare rivendicazioni, è più facile ascoltare, come dire, o vedere lotte per i propri diritti e anche giustamente quando occorre, ma è sempre meno raro sentirsi dire grazie. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!